Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Malore improvviso, il cantante italiano è morto. Il dramma si è consumato nel giro di pochi istanti e non c'è stato niente da fare per evitarlo. Si trovava sul palco e stava cantando quando all'improvviso. Come riportato da Prima Novara.it, è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte di chi era presente e degli operatori del 118. Non c'è stato nulla da fare e Giuliano Pirali, cantante e chitarrista 55enne, è morto. Si trovava sul palco in un locale di Invorio Superiore e si stava esibendo con la sua rock band. I Warehouse, quando si è sentito male ed ha perso la vita. La tragedia si è consumata sabato scorso in una data che aveva un significato speciale. Infatti, quella di sabato scorso rappresentata la data del ritorno sulle scene dei Warehouse dopo un lungo periodo di stop. La reunion, però, si è trasformata in una tragedia, con Giuliano Pirali che ha perso la vita in seguito ad un malore improvviso che lo ha colpito mentre stava cantando sul palco. Pochi giorni prima aveva annunciato le date, Pirali aveva pubblicato sui social un post carico di entusiasmo, nel quale scriveva che l'attesa era finita ed aveva annunciato le nuove date. Invitando i fan a segnare sul calendario quelle del 4 marzo e del 22 aprile.